La peculiarità del nostro strumento dell'organo è che è estremamente locale, cioè varia a seconda delle zone. Si parla di scuole nazionali ma addirittura in Italia di scuole regionali, cioè un organo lombardo è diverso da un organo napoletano, da un organo toscano, quindi la possibilità di venire a provare in loco qua in Piemonte ma anche qualche settimana fa siamo stati a Brescia ci dà la possibilità di provare repertori diversi che sono stati costruiti appunto per questi organi che hanno delle peculiarità tutte loro e sono diversi l'una dagli altri. Ogni volta che sono in pubblico per me è sempre motivo l'ansia perché comunque ogni pubblico è diverso, quindi tra l'altro ogni organista famoso prima di andare in un concerto è sempre teso, ma a volte la pressione fa bene anche perché si va sicuri di sé e poi la probabilità di sbagliare è ancora maggiore. L'emozione che si provano sono tante soprattutto quando sappiamo che stiamo regalando la nostra musica anche a chi ci ascolta, quindi l'emozione più bella è che si sta suonando ma non solo per noi stessi ma anche per gli altri. Benedetta Porcedda, Sara Pirroni e Domenico Lavena sono tre organisti diplomati al Conservatorio di Cagliari, giunti in Piemonte per partecipare a una masterclass di perfezionamento. La associazione Organaglia che è giunta al diciottesimo anno di attività ha la capacità di organizzare delle iniziative ormai di concerti organistici e credo che per questo sia per la natura del patrimonio, la qualità del patrimonio, sia per la capacità di Organaglia di organizzare questi eventi, sia nata questa collaborazione con il Conservatorio di Cagliari. Il Conservatorio di Cagliari ha presentato questo progetto di collaborazione per offrire la possibilità di approfondimento e di esperienza didattica agli allievi della mia classe di organo. Visitiamo e suoniamo organi che sono totalmente assenti nel panorama organistico della Sardegna, quindi con sonorità molto particolari alle quali abbiamo dedicato due programmi ben precisi. Ai canavesani il privilegio di poterli ascoltare in due conferenze concerto, nelle chiese parrocchiali di Santa Maria Assunta a Montanaro e di San Francesco a Tonengo di Mazzè. Due programmi, il primo dedicato ai rapporti storici che sono intercorsi tra Sardegna e Piemonte nell'epoca del Regno, con un programma che comprende autori di aria sarda del XIX secolo, un programma pressoché inedito di Brani, abbiamo voluto dedicare lo strumento di Carlo De Gezzi Bossi, uno strumento più moderno, abbiamo voluto elaborare un omaggio ai compositori piemontesi che nel corso del Tartus 800 e del Novecento si sono dedicati alla musica organistica. Abbiamo scelto questi due strumenti in quanto sono due tra i maggiori esempi nel loro periodo storico qui del Canavese. L'organo Bruna-Vegezzi Bossi di Montanaro con la sua spettacolare cassa barocca e i suoi 15 puttini con tromba sonante era quanto di meglio poteva offrire questa zona riguardo il periodo classico ottocentesco. Invece l'organo di Tonengo è stato scelto in quanto è il primo organo riformato, come si diceva allora, del Canavese.